Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di alcuni luoghi simbolo della città. I luoghi simbolo sono il nostro portocanale che ormai ha una struttura che è sotto gli occhi di tutti, è diventata vetusta, è diventata non più adatta alla città. Vi voglio parlare delle colonie che sono una croce, una ferita quando noi le guardiamo, quando ci passiamo davanti, ma rappresentano il nostro passato e anche la nostra cartolina. Vi parlo quindi dei luoghi che hanno fatto la storia di Riccione, i luoghi che ne hanno significato il suo sviluppo, le sue origini e sono luoghi che noi dovremo far tornare a splendere. Sono quelli che verranno anche interessati dal grande progetto che abbiamo messo nel programma che si chiama Master Plan, un piano di prospettiva a lungo termine fatto da grandi urbanisti. Lì dovremo sapere cogliere le opportunità che ci verranno stimolate a recepire e da lì partiremo per riorganizzare la città, la viabilità e far tornare e risplendere questi luoghi simbolo.